Nell'anno 2005 la FIF Academy propone il proprio metodo Pilates in tutto il territorio italiano. Il metodo FIF rispetta e applica tutti i principi tradizionali del metodo Pilates, integrando ognuno di loro in modo logico e progressivo e modificando ed arricchendo l'esperienza formativa dell'istruttore. Il metodo Pilates della FIF Academy è una opportunità per crescere e completare il proprio profilo di insegnante, con la garanzia e il massimo impegno della Federazione Italiana Fitness e nel pieno rispetto della filosofia del metodo tradizionale, ovvero sviluppa il corpo in modo equilibrato, corregge le posture sbagliate, rinvigorisce il fisico e la mente ed eleva lo spirito. Grazie a tutti! Grazie a tutti!